Costruita una partita voluta con l'energia, con l'attenzione tecnica, con la grande concentrazione sui dettagli tattici, ma soprattutto giocando con grande emozione. Credo che l'emozione vuole qualcosa che in generale fa la differenza sul campo e soprattutto per la nostra squadra fa sempre la differenza. Faccio un paragone con la scorsa stagione, quando venne qua a Caserta, Caserta è una squadra quest'anno fortissima ed era l'anno scorso una squadra fortissima e dico che in, diciamo che ci siano dieci o nove mesi, la Junio Casale è cresciuta molto e la crescita è qualcosa che va molto al di là di una regola in classifica. Oggi quando abbiamo giocato con il Tocatetta abbiamo giocato con gli occhi convinti di essere sfidanti, ma gli occhi convinti di chi ha il piacere di sfidare. E credo che la crescita di Junio Casale, penso che in questo differente modo di approcciare emotivamente, tecnicamente, tatticamente la partita contro sempre una... l'anno scorso la squadra che era pieno, quest'anno la favorita del nostro campionato, spero che sia un qualcosa di cui voglio ringraziare tutti dal pubblico, allo staff tecnico che in settimana ha fatto un grandissimo lavoro per sopraire questa partita, allo staff medico perché abbiamo avuto ogni giorno un incidente e quindi devo dire che oggi tutti i giocatori erano in campo e in campo con quelli che ho trovato prima.